Va bene, Conte ha vinto lo Scudetto, però in Europa cosa ha fatto? Inzaghi non ha ancora vinto lo Scudetto, in Europa ha fatto una finale. Quante coppe ha vinto? Quante ne ha vinte? Cinque. Eh beh, non è... cioè, altro che minimo sindacale. No, però in quelle... scusami Paolo, non sono d'accordo sulle coppe perché per quelle società Inter, Milan e Juventus queste coppe servono poco e niente. Eh beh, ma devi vincere. No, no, Paolo, ascolta. Beh, ma se le vinci sei bravo, Massimo. No, no, capito, se le vinci, Pirlo ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa è andato via. E vengo quarto a livello. Scusami, se avesse vinto la Supercoppa o la Coppa Italia l'anno scorso come l'ha vinta Inzaghi, te lo dico, e fosse uscito agli ottavi col porto e avesse fatto quel campionato, Inzaghi sarebbe andato via. Ma sì, ma l'ho detto io prima, ma è ovvio. Eh, allora, scusa, vedi che quelle coppe... No, ma ho capito, ma io non ragiono con la testa di Marotta e Ausilio. Quelle società, scusami però, Paolo, in quelle società Inter, Milan e Juventus soprattutto, quelle coppe, non ho detto che non contano niente, ma non sono sufficienti per una riconferma. Ma io ti sto dicendo che... No, scusami, fammi finire però. Io ti sto dicendo quello che avrebbero fatto i dirigenti dell'Inter. Se l'Inter fosse uscita con il porto, ok, in Coppa dei Campioni... Sì, ma non è uscita. E avesse fatto il campionato... Aspetta! Ma come si fa a ragionare con i sé? Ma sono stato io il primo... Ma Massimo, sono stato io il primo a dire... Ma ti sto dicendo, ti sto dicendo una cosa per... Per farti capire che quelle coppe, per una riconferma, in quelle società, contano poco. Tu non sei uno che sostiene Inzaghi, l'abbiamo capito, però non si può criticare... Ma non è vero! Ma sì! Ma scusa Paolo, però scusa Paolo, il percorso... Ma io guardo quello che... Tu Massimo, tu Massimo, sei molto più clemente con Allegri che da quando è tornato alla Juve. Ma stai scherzando! È inguardabile e non con Inzaghi. Ma io ho massacrato Allegri, ma cosa stai dicendo? Ma se Allegri ha usato una persona, una persona, amica, comune, per farmi chiamare e dire che non dovevo criticarlo così... Ma cosa stai dicendo? Sarà bernaloso! Ma stai dicendo, però hai criticato di più Inzaghi! Ma cosa dici che l'ho stracriticato io? No, però non l'anno devi elogiare, Inzaghi c'è il braccino, questo è... Ma come braccino? Ma scusa, ma l'ho detto... Oh, poi scusa, tu mi vieni a dire cosa devo dire io? No, io ti la domanda, non sei tu, tu prima hai parlato e vi ho ascoltato, parlo io e interrompete sempre! No, no, allora, Borrelli poi parla di calcio e champagne, parla di risultati, ma vincere giocando bene... Senti da quattro ore a parlare... Ma che vuol dire? Prima era la cronaca della partita, che vuol dire? Massimo... Allora... Allora...